Grazie a tutti. Abbiamo parlato anche più del previsto e ci siamo confrontati su tutti i temi che ci stavano più a cuore, visto che vogliamo giocarci la partita fino in fondo e la delegazione è probabilmente più numerosa perché ci tenevamo a fare quello che non si è riuscito a fare al Querinale, ovvero sia portare le voci dei territori con un sindaco di un comune terremotato in Emilia, con un presidente di una provincia interamente montana e con il governatore di una regione che da sola mantiene quasi metà del paese che è Luca Zaia. E quindi abbiamo portato la voce dei territori e della Lega. I temi di confronto e che saranno di scontro sono ahimè numerosi, partendo dall'Europa e dall'Euro. Ho regalato una coppia del libro Il tramonto dell'Euro del professor Bagnai. Non abbiamo percentuali sulle vendite del libro e ci tengo a farlo presente, però dal punto di vista nostro e della Lega non c'è rilancio dell'economia e del lavoro. Oggi c'erano in piazza migliaia di partite IVA, di artigiani e di commercianti. Il problema è l'Euro, il problema sono i vincoli folli dell'Unione Europea. Matteo Renzi ci ha detto che la sua posizione è totalmente diversa dalla nostra. Questo ci rammarica da un certo punto di vista perché Bruxelles non capisce le mediazioni, capisce solo la voce forte. E quindi solo la minaccia di un'uscita possibile e dovuta dall'Euro ci permetterebbe di far ripartire l'economia. Mi sembra che da questo punto il prossimo Presidente del Consiglio sia sull'altra sponda del fiume. E quindi su questo noi continueremo a fare una battaglia perché continuiamo a ritenere che le aziende, il lavoro e la speranza per i nostri giovani riparte al di fuori dell'Euro. E su questo nessuno ci farà cambiare idea. Legato a questo il tema delle riforme. Noi non staremo a vedere ma anzi proporremo la riforma del titolo quinto e il completamento del federalismo fiscale. Per due anni e mezzo è stato dimenticato e noi sfidiamo la prossima maggioranza, messo in un concesso che ci sia, il prossimo Presidente del Consiglio, a completare il processo di autonomia, di responsabilizzazione e di valorizzazione dei territori. Quello che temiamo e che per certi versi abbiamo avuto come conferma oggi, e che invece ci sia la voglia di riaccentrare competenze e soldi. Ecco, se il prossimo Governo Renzi arriverà in aula per riportare a Roma competenze e soldi, non ci siamo e la Lega è dall'altra parte della barricata con tutti i suoi amministratori locali. Io ricordo che oggi la Lega governa più di 500 comuni e le due regioni che da sole pagano un risidio fiscale di 70 miliardi di euro. Quindi da sole mantengono l'Italia e mezza Europa. Quindi se il tentativo sarà di riaccentrare non ci siamo e su questo la guerra sarà totale. Sullo Ius Soli, ecco mi stavo chiedendo su che cosa ci siamo trovati d'accordo sostanzialmente su nulla, perché sullo Ius Soli c'è stato confermato che si va verso uno Ius Soli temperato e per quanto ci riguarda confermiamo il fatto che l'integrazione non si regala e la cittadinanza non si svende ma arrivano alla fine di un percorso, quindi sui temi dell'integrazione e dell'immigrazione ci auguriamo non ci sia la propaganda che c'è stata nell'ultimo anno ma si voglia entrare nel merito dei problemi. Se i presupposti sono quelli che abbiamo sentito oggi, anche in questo caso la Lega, sia la Camera che il Senato, ne farà e ne dirà delle belle. Per quanto riguarda poi anche esigenze locali abbiamo chiesto l'esenzione fiscale totale per almeno un anno per tutte le zone colpite da alluvioni e frane e molti esponenti del Partito Democratico ci dicono sì, 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 noi li sfidiamo quando verranno in aula entro una settimana a metterlo nero su bianco. Se entro una settimana ci sarà nero su bianco l'esenzione fiscale per tutte le zone colpite da alluvioni, frane o terremoti su questo potremo ragionare, altrimenti faremo il diavolo a quattro perché c'è gente che ha avuto un metro e mezzo di fango in casa o in azienda e che deve pagare tutte le tasse fino all'ultimo centesimo. Non abbiamo parlato di legge elettorale ma abbiamo parlato di abolizione dei prefetti che sarà uno dei quesiti referendari che presenteremo come Lega e su cui raccoglieremo le firme a partire dal 29 di marzo e su cui vi invito a chiedere al Presidente Renzi qual è la sua opinione, non sta a me dirla, però su questo potreste avere delle buone sorprese almeno dal nostro punto di vista e quindi se devo trarre da Segretario di Partito la somma di queste tre quarti d'ora di confronto interessante e utile devo dire che ne esco preoccupato ne esco preoccupato perché la nostra analisi è che l'Italia e soprattutto il Nord sia occupata manu militari da potenze straniere e chi non ha la voglia, la forza o il coraggio di ridiscutere i vincoli europei e di mettere in discussione l'euro che è una moneta criminale è complice dell'occupazione manu militari tramite le banche, le multinazionali e la finanza del nostro territorio e quindi nel giorno della protesta degli artigiani e dei commercianti non rimettere in discussione questi vincoli secondo me è una colpa gravissima, siamo soli e questa battaglia la faremo da soli detto questo li abbiamo sfidati e quindi sul tema del federalismo contiamo che il processo timidamente iniziato sulla sanità ad esempio che i costi standard arrivi laddove deve arrivare questo è, se c'è qualche domanda siamo a disposizione altrimenti siamo soddisfatti mi siete trovati d'accordo quasi su niente dunque concludiamo che non si può il governo Renzi che nascerà non conterà minimamente sui voti al senato della Lega mai abbiamo pensato di dare un voto della Lega a un governo che nasce dal palazzo e non da elezioni, men che meno un governo di sinistra se oggi ci avessero stupito con effetti speciali dicendo avete ragione tutte le analisi dicono che l'euro è una stronzata e va ridiscusso avete ragione invece di riaccentrare dobbiamo ridare ai comuni e alle regioni soldi e competenze avete ragione sull'immigrazione abbiamo chiacchierato a vuoto per un anno forse bisogna fare in maniera diversa saremmo usciti col sorriso sulle labbra visto che su questi temi abbiamo sentito l'esatto contrario mai ci abbiamo pensato prima, men che meno ci pensiamo adesso a differenza di altre opposizioni però e ogni riferimento al Movimento 5 Stelle puramente voluto noi abbiamo voluto portare le nostre proposte non siamo pagati per dire no a priori vorremmo tanto dire dei sì perché siamo pagati per risolvere i problemi se però sui temi principali Europa, federalismo, immigrazione la nave va in senso contrario e allora per noi è chiaro che rimane la via della battaglia paese per paese grazie grazie arrivederci buonasera grazie Grazie a tutti.